Diverse trattative finalizzate nell'ultima settimana di mercato per le squadre impegnate nei campionati di Serie D ed Eccellenza. Si muove il Taranto che, dopo aver salutato in settimana Luigi Manzo, si assicura il ritorno per la cabina di regia di Max Marsili. Per la società Rosso-Blu la priorità rimane regalare un nuovo rinforzo in attacco per Mister La Terza, dopo la fumata nera arrivata negli ultimi giorni per Diakite. Conferme e arrivi per la team Altamura, tra le società più attive degli ultimi giorni. Per la mediana c'è il rinnovo di Guadalupi, mentre per l'attacco arriva Emanuele Tedesco, lo scorso anno in forza alla Fidelisandria. Proprio la società Biancazzurra si è assicurata nelle ultime ore Simone Minincleri per la tre quarti, nelle ultime due stagioni al Mantova. Attivo il Cerignola che, in attesa di Mati Cristaldi, annuncia Giuseppe Tedesco per il reparto avanzato. Nel campionato di eccellenza, sempre molto attive Corato e Barletta, che si aggiudicano rispettivamente Greco e Telera per la retroguardia, e puntellano le rispettive rose con arrivi under, al pari della Sly con l'annuncio del Bibi Martellone. Quasi al complito il Massafra di Dalena, con la firma di Cannito a centrocampo, mentre comincia a muoversi in Martina con il ritorno a centrocampo di Camporeale e la firma in difesa di One Man Barrera. Giorni caldi, intanto, anche per il possibile nuovo format dell'eccellenza, risvolti importanti, in tal senso, potrebbero esserci nella giornata del 12 agosto.